Oh, alle tre, eh? Ci abbiamo appuntamento. Se non si cambia. André, dai, per favore, devo andare a pranzo. Stringhi, André. Non c'è più aeroplano e me ne vado, André. Posso, aspetta. Sto a perdere tempo con te. No, 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 aspetta, no, aspetta. Ma io, secondo te, secondo te, io perdo tempo con te. Secondo te, io perdo tempo, il mio tempo, che costa pure parecchio. No, ma no, ma no. Ti sto donando, ti sto donando del tempo gratuitamente. Tu mi stai facendo perdere del tempo. Ma no, no, ascolta, ascolta. Allora, che cazzo vuoi, dimmi. No, no, ti dico questo, ti dico questo. Ma tutto bene, ma tutto bene. Io sto già migliorando, sto già migliorando. Andare alla clinica, secondo me, è troppo presto. Perché è un soggetto. Tu ti meriti di morire con la cocaina vicino a te. Tu sei un soggetto, André. Tu sei un soggetto di... Parliamo dopo. Tu sei... No, no, dopo non ne parliamo perché io me ne vado adesso. Sei un soggetto. No, 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 no. No, me ne sto andando. Io... No, è possibile. Sei un soggetto, André. Sei... Sei un soggetto. Vaffanculo, dai. Basta, André. No, no, ascolta, ascolta. No, ascolta, ascolta, ascolta. Ci vediamo. Vengo lì. Vengo lì. Vengo lì, dai. Vengo lì. Va bene? Vola, va. Vola, va. Vola, va. Dai. Ciao.